C'è anche Pamela Anderson al Tarumina Film Festival e, tra rivelazioni sulla sua vita privata e qualche complimento al suo décolleté per aver contribuito al suo successo, l'ex bagnina di Baywatch annuncia un nuovo capitolo della sua carriera. Pamela, 46 anni, è infatti il rivelato che apparirà nel film Vernon Godliddle di Werner Herzog, noto regista tedesco famoso come esponente della corrente, meglio conosciuta come nuovo cinema tedesco. La storia della pellicola, che è un adattamento cinematografico del romanzo d'esordio dello scrittore australiano D.B.C. Pierre, ha come protagonista una donna sicuramente piena di difficoltà. È la madre di un ragazzo, spiega infatti Pamela, accusato di essere personalmente responsabile dell'omicidio di alcuni ragazzi della sua classe. Herzog mi ha contattato dicendo che ha sempre voluto lavorare con me, ha detto che non vuole assolutamente che mi prepari per il ruolo, vuole solo che vada lì e mi metta nelle sue mani. Mi ha detto, te lo prometto, la tua interpretazione sarà incredibile, mi darà lezioni di recitazione, mi sento molto fortunata. Nella pellicola ci saranno anche Russell Brand, che vestirà i panni di un affascinante giornalista televisivo senza scrupoli, e Mike Tyson in un breve cameo. Le riprese si svolgeranno in Messico e negli USA, inizieranno a settembre. Mi sembra un nuovo capitolo della mia vita, confessa poi la Anderson, coinvolta in realtà anche in altri futuri progetti. Ora sono molto più serena, i miei figli sono cresciuti, mi sento informissima, sto per affrontare un paio d'anni molto impegnativi.